Non esiste la replica nella delibera, magari nel dibattito degli allenamenti se si vuole dare una risposta di merito a distanze forte, pure se adesso dedichiamo allo spazio però quando abbiamo tempo fa che andate a lavoro. Quale minuto o minuto l'animo si era? Sì, sì, grazie. Serve chiaramente dell'Aula, chiaramente dell'Astato, asservatati chiaramente. Questa commissione è una commissione che nasce su una base del regolamento del Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede solo commissioni consigliere. Questo è quanto è previsto nel regolamento del Consiglio Comunale. L'esperimento e l'esperienza che fu fatto nella commissione un po' di tazzo, su Oraglia, per capirci, negli anni, i primi anni di Oraglia, fu una scelta che trovò d'accordo tutta l'Aula. E si fece qualcosa che dava oltre il regolamento del Consigliere. Queste condizioni, quest'Aula non vi ha avute. Nasce la commissione come dal regolamento. La commissione consigliare come dal regolamento, perché le regole non sono un'opinione, non sono fatti. Quindi il regolamento del Consiglio Comunale prevede la commissione che è costituita dal Consiglio Comunale e dai consiglieri comunali. Questo è quanto prevede il nostro strato il regolamento. Ogni regolamenti si possono sempre cambiare. Ma oggi, purtroppo, dobbiamo lavorare con le regole che abbiamo. Dicono proprio la commissione consigliare. E deve avere la risultanza proporzionale di tutti i consiglieri. Grazie, consigliere Rozza, per il chiarimento. L'ordine dei lavori, il Consiglio della Presidenza...